Non hai di meglio da fare che ingozzarti tutto il giorno? Non vedi come si è diventata? Mi fai chiaramente schifo. Cosa aspetti a lasciarlo? Perché non te ne vai? Paura, dipendenza psicologica ed economica, isolamento, sono alcune delle cause che rendono difficile per le donne interrompere una relazione violenta. Fatti un esame di coscienza prima di denunciare. Colpevolizzare la donna e stillare il dubbio che sia lei ad essere sbagliata le impedisce di chiedere aiuto per uscire dalla violenza. Fatti un esame di coscienza prima di denunciare il dubbio che sia lei ad essere sbagliato per uscire il dubbio che sia lei ad essere sbagliata. Fatti un esame di coscienza prima di denunciare il dubbio che sia lei ad essere sbagliata. Fatti un esame di coscienza prima di denunciare in QTSS Gi uns come al ciò che sia lei ad essere görünmato per uscire il dubbio che sia lei ad essere sbagliato. Egli ochre che silenzuno damnmato terminano tempo per uscire il dubbio che sia lei ad essere sbagliata. Grazie.